Signori e signori per le esclusive di Teleradio Cinghiale il veicolo di Salvatore Pedalino vi chiederete questo illustre personaggio nonché mio regista con che cosa viaggia eccolo qui, parlava di grandi mezzi eccolo qui questo trattore rigorosamente senza documenti il signor Pedalino ha già permesso che deve andare alla motorizzazione e farsi fare i documenti di questo rottame che lui chiama trattore a che anno risale questo veicolo? ha detto è più bicchi di tia, questo sarà negli anni 40, anni 40, marciante? sarà al massimo del 60, 59, 59, 40 anni, buon servizio, buon servizio, buon servizio, passato i 40 anni, perfetto siamo qui sempre nell'azienda Le Rose, sponsor unico di Teleradio Cinghiale questo trattore è stato veicolato qui dal signor Pedalino trainato da quest'altro trattore ovviamente dovrà essere revisionato dall'azienda Le Rose che con la sua grande professionalità poi provvederà a rimettere in circolazione questo ferro vecchio, questo rottame che vedete qui grazie e ci sentiamo alle prossime interviste sempre offerte dalla vita Le Rose Domeniche e Lettrauto in collaborazione con Teleradio Cinghiale